Un acceso dibattito ha caratterizzato l'ultima seduta della Commissione Sanità della Regione, dove è stato approvato un emendamento presentato dal consigliere regionale Paolo Gatti, presidente della Quinta Commissione, che verte sul disboscamento di aree per fini sanitari. La decisione ha suscitato la reazione indignata del consigliere Sandro Mariani, che ha espresso preoccupazione per le modalità di annunciare la costruzione di un ospedale a Teramo, nell'area retrostante all'8-2 dell'ospedale Mazzini. Praticamente un emendamento che autorizza e favorisce la possibilità di disboscare delle aree ai fini sanitari, senza avere sul groppone gli oneri compensativi. Tutto ciò che vuol dire l'ennesima prova sul mio grande timore per quello che sto registrando in questi giorni in Commissione. Ho ragione di credere che Marsiglio, Larossi, Gatti hanno in mente di spendere i 140 milioni di euro trovati da D'Alfonso e dal sottoscritto per fare una sorta di mini ospedale, non so come definirlo, qui attorno, qui vicino alla pineta che è alle nostre spalle, appunto per lavarsi la faccia, per fare dieci anni di campagna elettorale, dire che si è fatto qualcosa, ma sappiamo bene che noi abbiamo bisogno di un ospedale di livello, abbiamo bisogno di un ospedale che sappia dare delle risposte ai cittadini, ai malati, ai pazienti, quindi fare questo vuol dire sperperare denaro pubblico, semplicemente dire che si è fatto qualcosa, io questo lo impedirò con tutte le mie forze. Mariani ha espresso inoltre il timore che possa essere convocata a stretto giro una conferenza stampa dalla Regione per annunciare un investimento di 140 milioni di euro senza che ci sia la certezza che il cantiere possa partire con fondi effettivamente disponibili. L'area è stata individuata, è quella del Mazzini, ci devono dire semplicemente se è possibile o meno costruire, lo dicono i tecnici, perché non ci sostituiamo i tecnici noi, un ospedale qui, ma non un ospedaletto, non un minio, un ospedale delle Barbie, noi abbiamo bisogno di un ospedale vero, siamo chiamati oggi da amministratori a fare le scelte, si chiama responsabilità, si chiama autorevolezza che un amministratore deve assolutamente avere, basta con le bugie, basta con perdere tempo e buttare fumo negli occhi alla gente.